Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Stanotte per lavori, chiuso in A1 il tratto tra la panoramica e Aglio in direzione Firenze. In A11 chiuso lo svincolo di Lucca Est in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. A Firenze in viale Piombino in viale Etruria fino al 23 marzo per lavori, restringimenti di carreggiata a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!